Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione da Tef Channel News. Apriamo con la cronaca. Monta infatti ad oltre un milione e mezzo di euro la somma non dichiarata al fisco da quattro persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Terni per evasione e un giro di false fatturazioni. Come ci dice nel servizio d'apertura Marcello Migliosi. Vediamo subito. Un giro di false fatturazioni per un'evasione fiscale di oltre 1 milione e 500 mila euro di redditi non dichiarati, un'IVA evasa per 245 mila e l'emissione d'utilizzo di false fatturazioni per oltre 500 mila euro. E' stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Terni ad essere denunciati dai militari quattro persone, fra cui in primis l'amministratore di una SRL che utilizzava le false fatture per detrarsi i costi inesistenti. Il proprio reddito derivante dalla vendita di presidi sanitari. Quest'ultimo si avvaleva di tre ditte individuali intestate rispettivamente ad un uomo di circa 50 anni e alla mamma e alla moglie di quest'ultimo che emettevano a richiesta false fatture per opere di facchinaggio mai realizzate per conto della società. Centinaia di fatture sui locali si leggeva prestazioni e manovalanza per spostamento contenitori da e per vostro magazzino. Un mare di ore di lavoro per lo spostamento di migliaia di bombe d'ossigeno da una parte all'altra del magazzino, ma che gli stessi operai sentiti non ricordavano di aver mai eseguito, così come al termine dell'accertamento ha dovuto ammettere anche lo stesso titolare della ditta individuale. Costi fasulli in sostanza per prestazioni di servizio che venivano quindi fiscalmente scaricati dalla società negli anni dal 2008 al 2010 per abbattere l'IVA, le imposte su redditi e l'IRAP, mentre le tre ditte individuali non presentavano proprio alcuna dichiarazione e non versavano alcuna imposta. Tutto questo alla faccia dei contribuenti e onesti. Il magnifico rettore dell'Università di Perugia, Francesco Bistoni, ospite a Speciale Università in onda questa sera su Tef Channel, traccia la roadmap per le elezioni e la costituzione dei dipartimenti entro ottobre e tira così un bilancio dei suoi mandati al vertici dell'Ateneo Perugino. Una roadmap di massima e condivisa che consente lezioni di rappresentanze studentesche, costituzioni dei dipartimenti ed elezioni del nuovo rettore al massimo entro ottobre e la ferma volontà di smentire chi parla dell'Ateneo di Perugia come di un Ateneo allo sfascio. Sono questi alcuni dei più significativi passaggi dell'intervista che il magnifico rettore Francesco Bistoni ha rilasciato Tef Channel insieme con il professore merito Antonio Pieretti nell'ambito della trasmissione speciale Università, un'occasione pubblica nella quale smentire chi parlava di una sua permanenza alla guida dell'Ateneo o profilava persino un rischio commissariamento. Il fatto di poter arrivare a eleggere il rettore a ottobre allontana qualsiasi ipotesi di regenza temporale che può essere fatta attraverso un prorettore, un decano o qualsiasi di questo genere, ma sono ipotesi completamente campate per aria perché in realtà noi non abbiamo mai rischiato una ipotesi di questo genere. Ora, poi naturalmente l'enfasi negativa, anche alimentata da una certa stampa su queste situazioni, anche relativa all'eccessiva politizzazione, quella del terriore, che è stata introdotta nella lotta accademica sulle elezioni del rettore, fa sì che certe notizie abbiano il sopravvento e abbiano l'importanza che non meritano e vengono buttate in passo all'opinione pubblica. Ma in realtà un'ipotesi di questo genere è mai stata neanche ipotizzabile. Vi permetto di dire che alla data del primo novembre sarò pensionato. Sarà la modernità, da intendersi come concorrenza serrata, meritocrazia e globalizzazione, la sfida più grande che attende, secondo Bistoni, il suo successore. E nel tracciare un bilancio del proprio rettorato, sottolinea la costante presenza di un bilancio sano, le nuove realizzazioni immobiliari, un'offerta formativa pienamente approvata dal Ministero ed un forte slancio di internazionalizzazione cui, tornando indietro, avrebbe voluto dedicare ancora più energie. Sottolineate anche le difficoltà che, l'immagine in parte deteriorata, a torto o a ragione, della tranquilla Perugia comportano per la forza attrattiva del suo teneo. Perplessità, invece, suscita nel Rettore. Il professor Pieretti, il comportamento di chi tra i candidati alla successione ha impostato tutto sulla critica alla classe dirigente e non sui contenuti e sulle proposte. Infine, questa è la risposta alla domanda su cosa è l'università per il professor Bistoni e in particolare all'Università di Perugia. Saladino, rivolgendosi, disse «E cos'è per lei, Gisusalemme?» e lui, guardando, disse «Niente». E poi, riguardandosi attorno e sorridendo, disse «Tutto». La versione integrale dell'intervista al magnifico Rettore Francesco Bistoni e al professore merito Antonio Piereppi realizzata da Cristina Castellano andrà in onda questa sera su Tech Channel, nell'ambito della rubrica Speciale Università. E per la visita di Papa Francesco ad Assisi, prevista per il prossimo 4 ottobre, sono attese oltre 200.000 persone. E intanto la macchina organizzativa si è già messa in moto, come ci dice Paola Costantini. Sono attese oltre 200.000 persone per la visita di Papa Francesco in programma ad Assisi il prossimo 4 ottobre, preparativi in corso sul fronte sicurezza e relativamente al percorso che il Santo Padre dovrà compiere una volta arrivato nella città del poverello. I dati certi, ha dichiarato il sindaco di Assisi Claudio Ricci, sono che il punto di riferimento e raccordo saranno la Santa Sede del Vescovo di Assisi Monsignor Sorrentino con il supporto logistico ed organizzativo del Comune insieme alle altre istituzioni ed associazioni. Saranno toccati diversi luoghi francescani, anche detto il primo cittadino, sia in Assisi centro sia nel territorio, ma nulla è stato definito. Vista l'alta affluenza di pellegrini prevista per il 4 ottobre, non pochi saranno gli accorgimenti da un punto di vista logistico e del traffico, sia in entrata sia in uscita. Il Papa dovrebbe fermarsi in Umbria un solo giorno e non è stato ancora deciso con quale mezzo arriverà. Entro la fine del mese di luglio inoltre il cerimoniale sarà definitivamente messo a punto, per il piano sicurezza invece bisognerà attendere settembre. Sono fortunato che è il direttore della sala stampa del Sacro Convento per poter avere in diretta da Assisi la situazione della macchina organizzativa ed anche le prospettive per quanto riguarda questa importantissima visita di Papa Francesco nella città del Poverello. Pronto padre? Mi dicono dalla regia che non è possibile collegarci al momento con padre Enzo Fortunato, vedremo se sarà possibile più avanti. Allora proseguiamo con la nostra scaletta e per oggi è in corso al Giardine del Frontone di Perugia il Gay Pride Village, ma la città si divide fra sostenitori e detrattori. Vediamo il servizio. Ecco, sta per partire il servizio. Il Gay Pride oggi a Perugia. La manifestazione organizzata ai Giardini del Frontone vede l'impegno diretto di una quindicina di associazioni intente a promuovere i dibattiti, proiezioni di film, concerti musicali e l'allestimento degli stand. Le tematiche sono quelle dell'abbattimento delle discriminazioni, come emerge dal dibattito d'apertura curato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione sul tema strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sul rentamento sessuale e sull'identità di genere. È previsto oggi anche un incontro con la presenza di Franco Grillini, ex deputato e presidente onorario di Arci Gay e del sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali. Il Gay Pride a Perugia serve per far sì che anche in Italia, anche in una regione piccola come l'Umbria, queste rivendicazioni possano essere portate avanti e speriamo che prima o poi anche noi arriveremo ai livelli degli Stati Uniti. Il Gay Pride è un'occasione eccezionale per dimostrare a tutta la cittadinanza le nostre rivendicazioni, anche la presenza delle autorità e di associazioni non coinvolte direttamente con il movimento che è sicuramente una testimonianza molto importante del segno dei tempi che cambiano. E ci sono a Perugia opinioni diverse su una manifestazione ben caratterizzata come il Gay Pride ed ora sentiamo quella di Massimo Monni, consiglio regionale del Popolo delle Libertà. Ritengo che ognuno può dimostrare qualsiasi sua cosa nella vita, perché in un mondo libero è giusto che tutti possano fare quello che ritengono opportuno. Ritengo che la libertà delle persone sia da rispettare, ritengo però nello stesso tempo che sullo Stato libero non c'è bisogno di fare delle dimostrazioni, delle riunioni per rivendicare qualcosa. Ognuno è libero di avere la sua sfera sessuale, ognuno è libero di essere in un contesto come questo sia omosessuale o eterosessuale, però ritengo che sia eccessivo fare delle dimostrazioni per dimostrare che cosa. Ognuno vive la sua sessuale modo privato senza che nessuno deve dire o fare nulla. Dunque questa è una mia naturalmente idea personale, non è una questione del PDL, perché qui la sensibilità è tale che ognuno, non è una questione politica ma è una questione di sensibilità personale, io ritengo che ognuno è libero di avere la sua sessualità, ritengo eccessivo e anche riduttivo che uno deve dimostrare qualcosa facendo delle manifestazioni. E ascoltiamo su questi argomenti l'opinione di Michela Semeraro, che fa parte dell'Associazione Famiglie Arcobaleno. Ho una compagna da 12 anni e dopo 12 anni abbiamo deciso di avere un bambino per completare la nostra famiglia. Ovviamente sono viaggi della speranza che vengono fatti fuori dall'Italia, perché in Italia non è possibile concepire un bambino come è stato concepito lui, tramite inseminazione artificiale. Nel momento in cui noi stiamo lottando per il matrimonio, per il riconoscimento da parte della mamma non biologica del bambino, sono varie lotte che Famiglia Arcobaleno ha fatto su, è nata proprio per questo. e siamo addentrati, cerchiamo di vivere la nostra vita alla luce del sole, in maniera che la gente possa non fuggire a una sorta di omofobia contro gli omosessuali, perché sono persone completamente normali che scelgono di avere una vita secondo quelli che sono i loro gusti sessuali. Siamo riusciti a ristabilire il collegamento telefonico con padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, che volevamo ascoltare proprio per capire da lui qual è il clima dell'attesa per questa storica visita di Papa Francesco nella città del Poverello, nel giorno appunto dedicato alla Santo Padrono d'Italia. Pronto padre Enzo? A questo punto vedo che il collegamento non è stato ancora stabilito, dobbiamo per forza proseguire e apriamo la pagina economica. Per quanto riguarda la città di Perugia si discute di lavoro e salute in una regione purtroppo che resta ai vertici per i casi di incidenti sul lavoro. Ed ora, scusate ma mi dicono che siamo riusciti a ristabilire questo collegamento piuttosto difficile nella giornata di oggi. Pronto padre Enzo? Faccio bene cari amici. Ecco padre Enzo, siamo in diretta dal... Sì, sì, non vi ho seguito, quindi che è caduta la linea, ditemi. Ecco, dobbiamo fare luce ancora sul clima di attesa che c'è ad Assisi per questa storica visita di Papa Francesco nel giorno del Santo Padrono il 4 ottobre. Ecco, qual è il clima che si respira nel Sacro Convento? Beh, è un clima sicuramente di grande attesa, un clima, diciamo, corroborato dalla preghiera, proprio perché desideriamo accompagnare questo incontro con la preghiera. È la prima raccomandazione che Papa Francesco ha fatto personalmente al custode del Stato Convento, al Ministro Generale, quando siamo andati per incontrarlo, di dire pregate per me e gli abbiamo assicurato questa preghiera sulla tomba di San Francesco. C'è poi l'attesa di come si svolge il programma. Ecco, io vorrei dire ai mezzi di informazione quanto sia importante essere prudenti, non dare notizie avventate, perché ad oggi, ecco, si sa che viene. Il programma deve essere ancora messo a punto, si aspetterà le indicazioni che ci arriveranno e dopo di che si comunicherà un po' il programma dettagliato. Una cosa è certa e che sarà un po' il cuore dell'intera giornata, e cioè l'incontro tra Papa Francesco e San Francesco. E provo ad immaginare, con la preghiera, con sentimenti di affetto e di gratitudine, che cosa San Francesco dirà a Papa Francesco e che cosa Papa Francesco dirà a San Francesco. Ecco, noi questo incontro ricco di attesa, ricco di entusiasmo, lo accompagniamo con la preghiera. Ecco, padre Enzo, lei è impegnato anche sul campo dell'informazione, ovviamente, il suo mestiere. La rivista come darà spazio a questo storico evento che riguarda non solo Assisi, ma direi tutta l'Italia in generale? Sì, noi prepareremo un numero speciale, prima e dopo. Prima accompagneremo, quindi con commenti autorevolissimi, tutte le tappe che farà, perché una volta sono dato il programma, ecco, con la rivista specificheremo i luoghi, diremo dove andrà il Papa e poi subito dopo diremo con una rassegna fotografica bella quello che è stata la visita. Ecco, chi vuole questa rivista la può richiedere, se lo serve l'indicazione di affacciarsi sul nostro sito sanfrancesco.org, che è un luogo di approfondimento e di tutte quelle che saranno poi le notizie legate alla visita storica, avete detto bene, in apertura, di Papa Francesco ad Assisi. Grazie Padre Enzo per queste importanti precisazioni, allora apriamo la nostra pagina economica. Ieri e oggi a Perugia, discussione sui temi di lavoro e salute in una regione che resta ai vertici per i casi di incidenti sul lavoro. Marcello Migliosi Il rapporto tra lavoro e salute ed ancora più la sua attualità è al centro di una approfondita riflessione nell'ambito di un workshop regionale dal titolo lavoro e salute, ancora un tema attuale, punto di domanda, che si sta tenendo in questi giorni nella sede di Sistema Edilizia in via Pietro Tuzzi, 11 a Perugia, l'occasione per far emergere i punti di vista di tutti i protagonisti del mondo del lavoro, rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori, dei consulenti del lavoro e dei medici competenti, ma anche degli esperti dell'Università di Perugia e dei rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte. L'obiettivo è soprattutto quello di produrre un manifesto programmatico per i prossimi tre anni, affrontate anche altre tematiche. La salute dei lavoratori, che approfondirà il ruolo del medico contente tra sorveglianza sanitaria e promozione della salute, la formazione per la sicurezza come garantire una reale efficacia, la vigilanza nei luoghi di lavoro, la valutazione del rischio con il ruolo dei consulenti tecnici. Nel difficile contesto economico e sociale nel quale si trova l'Umbria e in generale tutte le regioni italiane, ha sottolineato la direzione regionale alla salute e il lavoro, è diventato la parola d'ordine, nel senso di cercare lavoro, trovare lavoro, procurare lavoro, produrre lavoro e salvare il lavoro. Parliamo ancora della crisi San Gemini. Tornano infatti alla carica i sindacati per sollecitare un intervento da parte della regione Umbria. Paola Costantini. Flai CGL e Fai Cisle e Willa Will insieme alle RSU di stabilimento annunciano la ripresa della mobilitazione anche con modalità eclatanti. Se entro le prossime ore non sarà definita la data di un nuovo incontro istituzionale per discutere dell'avvertenza che riguarda San Gemini, San Gemini, Fruite e Amerino. Le organizzazioni sindacali ricordano che è scaduto il termine del 15 giugno per la riconvocazione del tavolo di crisi come da accordi tra le parti presi nell'ultimo incontro in regione. Sono passati più di dieci giorni in un silenzio assordante e i lavoratori chiedono perciò l'immediata riconvocazione del suddetto tavolo, spiegano le sigle sindacali in una nota unitaria. Le organizzazioni denunciano inoltre il perdurare di comportamenti unilaterali da parte della proprietà. Vedi il mancato riconoscimento degli aumenti trattuali oppure la decisione di fermare lo stabilimento di Amerino senza alcuna comunicazione preventiva. Ancora problemi del lavoro in Umbria. Questa volta la TNT Global Express, multinazionale delle spedizioni, che ha annunciato che procederà a tagli e licenziamenti anche nella nostra regione, in particolare a Terni e a Perugia. Doppio presidio domani venerdì davanti alle sedi della TNT Global Express di Perugia a Terni in occasione dello sciopero proclamato a livello nazionale da Filt CGL contro il piano di ristrutturazione annunciato dalla multinazionale delle spedizioni, che prevede 854 licenziamenti in Italia su 2.980 dipendenti. Per quanto riguarda l'Umbria in particolare è previsto l'esubero di un dipendente su 15 nella sede perugina, mentre a Terni è stata annunciata la completa chiusura della filiale con conseguenti sette esuberi. La Filt CGL ha denunciato a livello nazionale l'atteggiamento unilaterale la grave situazione che si è determinata per i livelli occupazionali e ha chiesto il ritiro immediato della procedura di mobilità. Oltre alla giornata di sciopero di venerdì, ne è prevista un'altra, sempre a livello nazionale, per il proclamato. Siamo alla pagina sportiva che apriamo con la prossima novità sul piano della manifestazione sportiva. Infatti dal 29 giugno al 7 luglio si svolgeranno gli internazionali tennis dell'Umbria in programma TODI con la nuova formula che abbina gli incontri del terreno maschile a quelli femminili. Vediamo. Mancano appena due giorni al via degli internazionali dell'Umbria di tennis in programma dal 29 giugno al 7 luglio a Pontenaglia di TODI presso gli impianti sportivi del tennis club TODI 1971 presieduto da Marcello Marchesini. Quest'anno la formula della massima manifestazione tennistica della regione Umbria vede lo svolgimento in contemporanea del challenger ATP maschile, 30.000 euro di Montepremi, e delle gare del torneo femminile, 10.000 dollari e nei maschili alla quale figurano inseriti i giocatori che nelle classifiche mondiali si trovano anche tra i primi 100 posti. Siamo al settimo anno, mentre per le donne quella del 2013 edizione. Confermata la presenza degli sponsor di primo livello, per gli uomini si tratta di Distalnet, che fa parte del gruppo Blue Panorama, sempre legato al tennis Tuderte, e per le donne Astra Italy. Gli internazionali dell'Umbria rappresentano quindi, oltre ad un autorevolissimo evento sportivo, anche un significativo volano turistico e di immagine per la città di TODI, voluto dall'amministrazione comunale e dalle istituzioni pubbliche. Da sabato prossimo, quindi, e nell'arco di nove giorni, a Pontenaglio di TODI si potrà assistere a 140 partite di tennis internazionale. Uno spettacolo da non perdere. E su questo evento parleremo in studio con il nostro ospite di oggi, Marco Marchesini, benvenuto, che è il direttore degli internazionali femminili di tennis di TODI, come abbiamo visto in programma dal 29 giugno al 7 luglio. Ne parleremo tra poco, ma ora ci occupiamo di calcio femminile. Romina Natalizzi, da 11 anni con la Grifo Calcio Femminile, parla della sua squadra e il servizio è di Paolo Costantini. Romina Natalizzi ha appena concluso la sua undicesima stagione con la maglia del Grifo, un'annata calcistica contraddistinta dalla grande soddisfazione per la salvezza ottenuta e che l'ha vista ancora una volta protagonista sia in campo sia fuori. È nota la sua grande applicazione dal punto di vista tecnico come altrettanto riconosciuto nell'ambiente bianco-rosso il lavoro che svolge all'interno dello spogliatoio. Un leader anche nelle dichiarazioni mai banali e fatte al momento opportuno. La salvezza è un risultato storico, ammette la stessa Natalizzi, che accresce il nostro curriculum e soprattutto le nostre convinzioni. Il prossimo campionato di Serie A che andremo ad affrontare sarà forse più difficile, ma meno impegnativo sul piano mentale. Ormai sappiamo come porsi di fronte alla categoria e credo che potremo raggiungere senza particolari sofferenze la salvezza. La scelta di Sciurpa, allenatore che ha sostituito Scapicchi, mi sembra ponderata e opportuna. Giacomo conosce il nostro ambiente ed è un tecnico di prospettiva pieno di volontà. Sciurpa potrà contare su una rosa pressoché confermata, che in sede di mercato potrebbe essere ritoccata. La parola al nostro ospite, Marco Marchesini, direttore degli internazionali femminili tennis di Todi, che si svolgeranno dal 29 giugno al 7 luglio. Benvenuto al nostro ospite. Buongiorno a tutti. Parliamo, come abbiamo detto, nel servizio di questa nuova formula che abbina il torneo maschile a quello femminile. Quindi si tratta di un impegno sempre più gravoso per gli organizzatori e gli esponenti del Tennis Club Todi 1971, ai quali si affiancano nomi importanti anche del tennis italiano, come Cancellotti, ma soprattutto una vetrina importante per i tennisti che partecipano al torneo ed anche per quegli spettatori che vorranno godersi lo spettacolo ai campi di Pontenai. E allora, Marco Marchesini, quali sono state, possiamo dire, le difficoltà maggiori per far convergere in un unico periodo, in nove giorni, i tornei che normalmente si svolgerono in periodi differenti. Buongiorno a tutti di nuovo. Le difficoltà le vivremo durante questa settimana di incontri. Come hai ricordato tu, saranno più di 140 incontri, i match che si disputeranno sui nostri campi. Quindi la macchina organizzativa è rotata perché noi abbiamo già, come ricordavi prima, ospitato per sette anni consecutivi il Challenger. Adesso è la quarta edizione anche dell'Astra Italy. La macchina organizzativa è già in moto e di fatto le maggiori difficoltà saranno quelle appunto di coordinare tutto lo staff, che ricordo ancora una volta essere composto dai nostri soci, da volontari, e coordinarlo appunto al fine di poter dare avanti questa manifestazione nel migliore dei modi. È una sfida di fatto che ormai dopo tanti anni ci siamo sentiti di fare. Diciamo che è uno sforzo raddoppiato perché si tratta di far coincidere negli stessi periodi le attività che si svolgevano sia per i maschili che per i femmini in modo differenziato e quindi sia per la logistica, sia per l'organizzazione e anche per tutto quello che riguarda l'allestimento generale. I nostri campi saranno occupati per tutta la settimana completamente a tutte le ore e il vantaggio pratico è anche per chi verrà ad assistere ai match perché di sicuro saremo in grado di mettere in campo gli ultimi incontri intorno alla 18 del pomeriggio quindi facilitare anche chi lavora e quindi è un appello a tutti gli sportivi e agli amanti del tennis in modo specifico a frequentare il nostro circolo durante questa che sarà una bellissima settimana di sport noi ci poniamo come unico torneo con un evento combinato maschile e femminile dopo gli internazionali di Roma in Italia ecco possiamo fare qualche nome intanto vediamo una tennista dello scorso anno che sta facendo il riscaldamento prima di un incontro ecco quest'anno che cosa potete mettere in campo per quanto riguarda i protagonisti di un torneo che ha visto sempre esponenti di primo livello del tennis internazionale Allora, noi domani sera presso i locali del nostro circolo abbiamo alle ore 19 la conferenza stampa in cui presenteremo il seating del nostro torneo maschile c'è un po' di riserva ancora perché come voi sapete siamo nella seconda settimana praticamente da domenica inizia la seconda settimana di Wimbledon quindi stiamo aspettando magari qualche giocatore che all'ultimo momento potrebbe darci la sua adesione al torneo al momento c'è Paolo Lorenzi che è stato finalista l'anno scorso sarà la testa di serie numero uno Santiago Giraldi che è un colombiano che è stato nei primi 40 questi sono i giocatori più importanti al momento iscritti ma la qualità è molto alta mediamente in campo femminile quest'anno sicuramente il tabellone chiudendo intorno alla settecentesima posizione del ranking mondiale ha fatto un salto di qualità di oltre 200 posizioni è chiaro che sia come impegno economico e come caratteristiche richiede molto meno attenzione rispetto al maschile ma è di livello professionistico molto alto anche quest'anno ecco si parla dell'internazionale di tennis dell'Umbria a Todi non solo in campo sportivo ma anche come evento che anima la città che dà immagine a un territorio che insomma richiama fortemente il turismo ecco sotto questo profilo come è stata coinvolta la città e quali sono anche i momenti di collegamento fra lo sport e la cultura l'arte e insomma la vita cittadina allora di sicuro da quando abbiamo iniziato lo scopo è stato sempre quello di collaborare con le istituzioni locali e con chi si occupa di turismo per migliorare appunto in periodi in cui l'afflusso turistico era più basso l'affluenza in questa nostra bellissima città e l'evento combinato ancora una volta favorirà questo di sicuro vedremo molta più gente con grande soddisfazione senz'altro anche degli sponsor da quest'anno poi abbiamo puntato l'attenzione soprattutto sul coinvolgimento dei cittadini della città che fino ad ora avevamo l'impressione non si rendessero bene conto del livello qualitativo della manifestazione finalmente ci siamo riusciti ci saranno eventi sia presso il nostro circolo che in centro che animeranno tutta la settimana e allora buon lavoro agli organizzatori degli internazionali di tennis dell'Umbria e ne parleremo appunto la prossima settimana quando prenderanno il via legale grazie al nostro ospite grazie a tutti Marco Marchesini grazie ai nostri telespettatori e l'appuntamento alle prossime edizioni va bene grazie grazie a tutti buona giornata da Silvia Caravello e dallo staff di iMeteo.it ecco le previsioni per mercoledì 26 giugno 2013 correnti fresche nord orientali mantengono un clima decisamente molto gradevole sull'Italia con piogge temporali che interessano la Romagna e il centro entriamo nel dettaglio al nord cieli irregolarmente nuvolosi sui settori orientali con piogge locali temporali sui rilievi poi dal basso Veneto verso la Romagna più soleggiato al nord ovest al centro il tempo peggiora nel corso della giornata con rovesce temporali su Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio più soleggiata la Toscana e la Sardegna al sud sarà generalmente poco nuvoloso il mattino poi peggiora sugli Appennini, Puglia, Settentrionale fino alla Basilicata con rovesci e locali temporali i venti saranno di Bora al nord-est e di Maestrale altrove generalmente deboli vediamo a questo punto che cosa ci dicono le temperature previste per questa giornata minime che non subiscono variazioni particolari con valori che oscilleranno tra i 13 e i 19 gradi su tutto il territorio durante il giorno il clima sarà molto gradevole con non più di 24 gradi al nord fino a 22 gradi sui versanti adriatici del centro e 25-27 gradi su quelli tirrenici 27-29 gradi al sud l'aggiornamento meteo per oggi termina qui